L'offerta formativa dell'Istituto Superiore Don Michele Arena comprende i seguenti indirizzi manutenzione e assistenza tecnica, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, servizi commerciali e odonto tecnico, insieme per il futuro. Ho appena firmato l'ordinanza con la quale si recepisce il DPCM e quindi la condivisione che il Ministro Speranza ha voluto fare della nostra richiesta di istituire in tutta la Sicilia la zona rossa. I dati sono allarmanti e purtroppo non c'è altra soluzione, non si può giocare con la vita e con la salute delle persone. Sul fronte scolastico torneranno a scuola i ragazzi delle elementari e della prima media. Per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado barrà la didattica a distanza. Sono convinto che l'ordinanza, senza le misure di vigilanza e senza le necessarie sanzioni, rischia di essere inutile. Ecco perché rivolgo ancora un appello ai prefetti e ai sindaci affinché le forze dell'ordine e la Polizia Municipale possano essere mobilitate per questo tipo di attività. Grazie a tutti.